In questo video ti mostrerò come recuperare i codici PIN e PUC della tua firma digitale solo nel caso in cui tu l'abbia ricevuti tramite SMS ed e-mail. Ti informo che verranno reinviate solo le credenziali originali. Dunque, se in precedenza hai già modificato il PIN e il PUC autonomamente, il sistema non è in grado di recuperarli. Per iniziare, collegati alla pagina gestionecertificati.firmadigitale.it. Nei rispettivi campi inserisci in maiuscolo il codice fiscale dell'intestatario del certificato di firma e il codice utente o CRP presente all'interno della busta chiusa e integra con il kit di firma. Clicca sopra l'icona a forma di occhio se vuoi visualizzare il codice in chiaro. Ti informo che l'inserimento errato dei dati per quattro volte consecutive comporta il blocco dell'accesso al pannello. Clicca Cerca. Si visualizza il certificato corrispondente ai dati inseriti precedentemente in fase di accesso al pannello. Clicca su Invia codici. Infine, clicca su Invia per procedere con l'invio dei codici. La prima parte del PIN e PUC verrà inviata tramite SMS, mentre la seconda parte tramite e-mail all'indirizzo del titolare del certificato.